Musica E allora ragazzi noi siamo i vlog coming Oggi siamo qui per fare un po' di discese in bicicletta Discese? Discese, finirà male, finirà male, sono sicura Un po' di cadute in bicicletta Partito Tutto ha finito bene Adesso andrò Matteo e poi andrò io Adesso andrò Matteo, partito Va la seconda, discesa Ok, tutto a posto Siamo pronti a farci male? Scrivete nei commenti Oddio, sta cadendo Non è successo niente ancora, nessuno signori, incredibile Qua è il nostro presentatore, cioè il presentatore Capo canale non riesce neanche a salire Dettaglio a partito, ma è finito con l'altro Katia Qua c'è il nostro Arioli Tutto intero Sono in controluce, scusate se non vedete bene Lucina No, stai occhi Ce l'ha fatta, tutto intero Tutto intero Commenti al caldo? No Sto qua a prego Sto qua a prego Sto qua a prego E' riuscito a rialzarsi Nonostante la caduta io vado avanti Perché lo faccio per voi Per ben finire un passo italiano Non ti debito Però andrò avanti Il cameraman deve salire le scale Non le scale Faccio meno fatica io a salire Che voi con la bici Sto qua a cade pure che saranno Da più lontano ancora Vai, dai, vai, vai Giù in fondo Davide, dopo in quadro là Davide, dopo in quadro là Puoi vedere quanto è stretto Non vedo più tuoi occhi Ah, sì che lo vedo No, non lo vedo Attenzione qua al nostro primo Oh, oh, attenzione è caduta Finito malissimo Finito male, 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 male Secondo concorrente Finito male Un momento Un momento Si investe Non investe Sto qua Ma dai occhi Togiti in fredda No, abbiamo deciso di spostarci Qua ci sono tanti zanzari Così abbiamo deciso di spostarci Al posto che Dei discesa Non fare delle sgommate È meno pericoloso Però vedremo come Mi sono fatto un male cane Anche io Abbiamo fatto due cadute Adesso taglieremo E ci vediamo direttamente là Bella Raga, allora siamo arrivati Nel punto Non farci male Allora, lui è una specialista Ecco, guardi Prima mi Io Lui non tantissimo Vabbè Noi raga ci vediamo dopo Ci dobbiamo Vado, vado Oddio Oddio Mi sono salvata per le sfide Oddio Ti conviene spostarti Però Ti conviene Fustare Oh, attenzione Attenzione Partito terzo Con corrente Dario Oddio Mi sono spostati Qual era la mia bici Vai raga Vai Attenzione Partito terzo Con corrente Attenzione Attenzione Oh, Dio Cavoli Che ho Finito Un po' male Questa Attenzione Parte il secondo Concorrente Attenzione Arioli Arioli Davide 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 Arrivo Mi sposto Perché paura Attenzione Allora raga Adesso Provo Cioè Parto sempre da là Arrivo qua Provo a girarmi A fare un 360 E poi tornare indietro E poi tornare indietro Senza Cadere O farmi male O rialzarmi Ci vediamo dopo Attenzione Attenzione Partito il primo Non può farci male Attenzione Il pennante Attenzione Adesso Si parte Arioli Viaggione Arioli Va Va Attenzione Ancora Ancora Attenzione Parte Datia 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 Sfago la mia bici Impennata E Tutto ok Datia Si vede che mi piace così Raga Il video Direi che può finire qua Mi sono già fatto male abbastanza Quindi grazie Ci diamo quanti like? 35 like Si 30 E ne vogliamo 1.020 Per il nostro cameraman Grazie Pobre 7 Ci hai inquadrato E hai riuscito A A bloccare La sua tentazione Di voler fare Anche lui Il video E Ci vediamo alla prossima Bella